Addio a un'icona femminista e letteraria. Ma prima di iniziare vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche con un semplice clic sulla campanella, così non vi perderete neanche una delle nostre future aggiornamenti e discussioni. Ciao a tutti, cari spettatori di Amica Gossip. Oggi abbiamo una notizia importante da condividere con voi, che coinvolge una figura di grande rilievo. Ora, immergiamoci nella storia di una donna straordinaria che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della letteratura e dell'attivismo. È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Michela Murgia, una figura poliedrica che ha lasciato il segno in molti ambiti. A Roma, nella notte del 10 agosto, Michela Murgia, autrice, drammaturga e attivista, ci ha lasciati all'età di 51 anni a causa di un tumore al rene. La sua battaglia contro questa malattia è stata esemplare, e la sua storia ci insegna tanto sull'importanza di affrontare la vita con coraggio e determinazione. Un animo combattivo e un percorso straordinario. Michela Murgia era molto più di una scrittrice. Nata il 3 giugno 1972 a Cabras, in Sardegna, ha attraversato la scena letteraria e l'attivismo con una passione ardente. Nel corso degli anni, ha affrontato sfide personali e ha condiviso apertamente le sue lotte, incluso il suo primo tumore diagnosticato nel 2014. Ha intrapreso un trattamento di immunoterapia che, sebbene non potesse sconfiggere del tutto il male, le ha permesso di guadagnare prezioso tempo. Michela Murgia ha segnato profondamente il panorama letterario con opere come Il mondo deve sapere, un romanzo autobiografico, e successivi saggi, come Ave Mary e Istruzioni per diventare fascisti. Ma la sua influenza non si è limitata alle pagine dei libri. Era un'attivista appassionata, sostenitrice dei diritti delle donne e impegnata politicamente. Ha affrontato critiche e ha lottato per promuovere un cambiamento sociale significativo. Negli ultimi mesi, Michela ha partecipato al Salone del Libro di Torino, dimostrando il suo spirito indomito e la sua dedizione alla sua arte. Tuttavia, a giugno, ha annunciato il suo ritiro dalle uscite pubbliche per concentrarsi sulla sua salute e sulla sua famiglia. Ha lasciato un messaggio di amore e gratitudine, affermando che la sua vita è stata piena di ricordi e che è stata fortunata ad incontrare molte persone straordinarie. La storia di Michela Murgia ci insegna che il coraggio, la passione e la determinazione possono farci superare anche le sfide più difficili. La sua eredità non è solo nella sua produzione letteraria e nel suo attivismo, ma anche nella sua capacità di ispirare gli altri a lottare e a vivere appieno. Ciò che ha detto sul cancro, che è un compagno della sua complessità anziché un nemico da distruggere, ci fa riflettere su come possiamo abbracciare le nostre sfide e imparare da esse. E voi, cari spettatori, cosa pensate dell'eredità di Michela Murgia? Cosa vi ispira di più dalla sua storia? Lasciateci la vostra risposta nei commenti e continuate a seguirci su Amica Gossip per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e curiosità dal mondo del gossip e delle notizie. Un grande abbraccio a tutti voi e a presto! Grazie! Grazie! Grazie!